Dopo l'anteprima dei giorni scorsi a Tortona prende avvio, partendo da Castellania, l'altro Monferrato, progetto triennale che ha debuttato nel 2015 e che porta il teatro fuori dal teatro, con la direzione artistica di Maria De Barbieri e Gianni Masella e il contributo della Fondazione, tra gli altri Cassa di Risparmio di Alessandria. Dopo aver camminato, quest'anno si pedali in attesa di volare il prossimo anno. Sono un po' spaventata di tutti gli appuntamenti che abbiamo messo insieme nel segno della bicicletta, che vuol dire che c'è anche una gita, un'escursione, anche molto bella vicino a Molare, ma soprattutto spettacolo in tanti modi. Musica e bicicletta, a Rocca Grimalda con Van der Voelst, circo e bicicletta con Calabasi, con una deliziosa acrobata che è presente alla partenza della mitica, e poi Matteo Caccia, che è anche un po' un divo della radio, un bravo attore, che racconta di Malabrocca, che credo che da tutte le parti sia un mito. Spettacoli, concerti, musica, circo, laboratori, saggi, racconti, cinema, escursioni e poi ancora competizioni, dove la bicicletta è sempre protagonista, in città, in campagna, nei castelli del Monferrato, nei parchi e su strada.